Grazie a tutti. E' un trattamento... Questa è la cucina del nido, che però per ora ci fa da succotto. Anche a me. E' come se fosse quello di casa su casa. E' bellissimo. Solo i privati. Ma ce n'è altrettanto di là? Che visita all'aria? Sì, ecco. Sì, ecco. Sì, ecco. Un sviluppo, comunque... No, no, c'è l'apertura... Dove è il primo giorno? Sì. Ecco la buona madre, Lorenza. Guarda quella che ha voluto preparare. Girati adesso. Bene, che fai? Prego, prego. Buongiorno. 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 Guardate, arriva l'assessore. E' bello questo. Nana! Mi sento ci sceglie. Mollone! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.